In questo nuovo vlog, io sono 960kile, oggi volevo parlare di The Boys, prima stagione, la serie è fatta da Amazon Prime e tratta dall'ononimo fumetto. The Boys parla da una parte di una vittima dei supereroi che difendono l'America dai criminali, che sono più di 200, e da una supereroina che per tutta la vita, avendo i superpoteri, vuole unirsi ufficialmente al gruppo. Tuttavia le cose non vanno come entrambi si aspettano, in quanto i The Boys appunto sono questo gruppo che vogliono farla pagare agli eroi che, essendo delle celebrità, spesso sono impunite dai loro atti criminali o di negligenza. E la superoreina scopre che il suo ambiente è molto marcio. Inoltre il protagonista scopre che i The Boys odiano tutti i superumani a prescindere. Quando invece vede che alcuni sono buoni, effettivamente che vogliono cambiare le cose, e quindi comprende che effettivamente non c'è una parte giusta, una parte sbagliata, ma c'è molto del grigio. E la consiglio perché è molto cupa, è adatta per i maggiorenni, e quindi decostruisce molto le tipiche questioni di marketing che si fanno nei film di supereroi, e minima parte per le celebrità, e inoltre può essere amato per chi ama un po' di violenza, splatter e di volgarità. Mi è piaciuta molto la serie in quanto la trama era appassionante, ho divorato subito gli episodi di un'ora, e aspetto la seconda. Qui da 960Kg è tutto, alla prossima!